sono le 14 e 41 la giornata fa schifo ho l'influenza mi cola il naso ho il mal di testa da ieri sera perchè ho bevuto troppo e sto aspettando che Lucas mi risponda però mi sa che si si vede tipo il riflesso qua sullo specchio una figata mi sento molto bimbo oggi proviamo a fare il vlog con Lucas e vediamo un po' come va è un esperimento vi faccio vedere un po' come girano le nostre giornate specialmente nel weekend perchè oggi è sabato 4, 5 novembre e vediamolo un po' come la giornata va non male grazie Londra adesso aprirò il mio armadio che è questo qua dietro e niente è vuoto non c'è un cazzo ho veramente l'imbarazzo della scelta come potete vedere che camicia sceglierò che camicia sceglierò che camicia sceglierò che camicia sceglierò caduto fanculo metto la felpa adesso sono così e adesso sono così mi assicuro che nella borsa ci sia tutto quello che mi serve provistiamo si c'è tutto prendiamo il cappotto che non si sa mai sorrido sempre ciao scendiamo le scale un cane selvatico appare ho dimenticato il caricabatterie del cellulare dalla mia camera e devo caricare il telefono altrimenti quel cazzo che faccio il vlog mi sembra normale mettiamo lo spinotto tac mi sto andando a prendere il bus e mi tocca correre l'equilibrio non è mai stato al mio forte adesso ci fermiamo Luca si è appena arrivato in una scala da 1 a a faccio rocaz quanto fa freddo a faccio rocaz attraversiamo la strada siamo a hidden street Kingston sul Tamigi Kingston sul Tamigi attraversiamo la strada qua c'è il tazzo io devo anche mangiare ora siamo praticamente nella zona dei negozi qua c'è Seisbury la zona più che altro dei dei pareti negozietti a casa la zona dei negozi e l'altra è Clarence Street si vabbè però qua ci sono tipo preta a mangiare e le altre cose ragione del perché il video farà un po' cagare anche perché il primo vlog praticamente è successo che teoricamente dovevamo uscire presto però lui ha perso un paio di bus diciamo che anche perché il mio punto forte è non essere molto puntuale esatto e lui non è molto puntuale e quindi i bus nella mia zona praticamente decidono di ignorarmi cioè per prendere un bus adesso mi devo buttare adesso deve fare i superman per prendere il bus quindi fra un po' fa buio per cui non possiamo andare a Richmond Park però questo è Kingston faccio vedere un po' la zona poi magari andiamo sul fiume si infatti e adesso andiamo da McDonald's perché ho fame la fila da McDonald's è enorme e io c'ho fame che cosa ti prendi? prendo il wrap of the day e niente mangiamo di merda oggi mangiamo veramente di merda sweet chili anche Lucas sta ordinando il suo cibo mamma mia better wrap of the day cosa ti sei preso? sweet chili sweet chili chicken sweet chili chicken di che cosa stiamo parlando? eeeh effemm effemm stiamo parlando di Tinder secondo te funziona Tinder? uff si credo di si me ne frega un cazzo adesso mangio finalmente sono arrivati i nostri magnifici wrap cheese è buono londra di notte londra di notte stiamo al Kingston Bridge che di notte si colora di blu guarda che bomba di blu perché? perché di blu? momento cultura secondo me è per il colore del fiume ma il colore del fiume non è blu il fiume fa schifo cioè il colore del fiume è verdastro non mi toccare non mi tocchi allora? camminiamo stabilizzazione della fotocamera a meno due allora praticamente il video finisce qui perché è notte e fra un po' noi andiamo al club esatto e andiamo a ballare insomma andiamo a divertirci come giusto che sia come giusto che sia come dice Luca dopo una settimana dopo una settimana di lavoro dopo una settimana di duro lavoro duro lavoro non posso portare cioè non posso registrare dentro il club e sarebbe anche abbastanza inutile fare un video all'uscita del club esatto perché tanto sarei troppo sbronzo per registrare quindi questo più o meno è un era una prova era una prova era una prova di un vlog normalissimo di una giornata noiosa e uggiosa e fredda in quel di Londra spero che vi siate divertiti e ci vediamo alla prossima ciao ciao